E abbiamo principalmente due modalità Una in vibrazione ed una in costrizione La modalità in vibrazione è quella che prende il nome di cargirà o basso sardo E si ha quando le nostre corde vocali, che sono queste Mentre vibrano, fanno vibrare anche le false corde vocali che stanno sopra Quindi l'effetto è questo Le false corde, in questo modo, vibrano a esattamente la metà della frequenza delle corde vocali vere Quindi noi abbiamo la voce normale, parlata, che continua ad andare E aggiungiamo semplicemente le false corde che vibrano anche loro in una specie di tandem E poi abbiamo invece la costrizione E invece le stesse corde, le false corde, le possiamo utilizzare senza mandarle in vibrazione Possiamo utilizzarle solo adducendole della giusta quantità Per provocare una modifica del timbro Facciamolo sentire che è più facile E abbiamo un arricchimento, anche in questo caso, del timbro della voce Questa modalità, per esempio, nella ricca terminologia tuvana Viene definito correct air E che è anche la base di molti stili Sempre appunto di canto difonico tradizionale Per riuscire a innescare questo meccanismo Potrebbe essere utile, per esempio, partire da una voce di Fry Quella che si fa quando arriviamo a casa stanchi dopo lavoro E andiamo sul divano Quindi Finalmente Oppure si ricorda il film E.T., la voce del piccolo alieno E.T., telefono casa Esattamente, quella Quindi partendo da questa voce Che ha una sensazione di rilassatezza Quindi non c'è una costrizione vera e propria E a questo punto immaginare di aumentare il volume Quindi aumentare il volume della voce Dando più pressione polmonare anche a livello di diaframma E vedrete che comincerà in automatico a sentirsi un senso La necessità di fare costrizione in gola Per mantenere il volume non troppo più stabile E non dare dei picchi che possono anche far male Quindi automaticamente ci viene da stringere la gola Se aumentiamo il volume Proviamo anche se vuoi tu Sì Ecco una cosa da non fare qui invece E' di cercare di stringere subito Perché se stringiamo subito l'errore che si può fare E' quello di chiudere sia le corde false che quelle vere E quindi con un suono del tipo Che questo vi irriterà le corde vocali vere Che, attenzione, sono molto delicate E quindi si arrosseranno e potremmo avere anche dei seri danni E' sempre preferibile utilizzare, come propone giustamente Walter, il vocal fry Che è una condizione rilassata Un altro esempio da fare è immaginare il suono della pecora E quindi è un suono costretto che però ricorda un fry Invece, per quanto riguarda la tecnica di vibrazione delle false corde vocali Abbiamo un paio di esercizi Il primo, che è il più semplice in assoluto E' qualcosa che tutti facciamo Perché è una necessità di vitale importanza Spieghiamoci meglio Le false corde servono a espellere eventuale cibo o acqua che va di traverso Quindi questo movimento che ci salva la vita Ed è quello dello schierirsi la voce o il colpo di tosse Quindi quando facciamo Con una certa anche convinzione Perché se dobbiamo liberare la gola da una possibile costruzione Dobbiamo utilizzare un po' di energia Quindi Ed eccolo lì che c'è il suono di false corde che vibrano assieme alle corde vere Quindi questo è un suono che tutti fanno Però se lo vogliamo imparare a gestire Dovremmo iniziare a farlo sia con un po' di potenza che con un po' di delicatezza E soprattutto per poco tempo Quando ci sentiamo sicuri allora proviamo a mantenerlo costante nel tempo Però inizialmente il nostro consiglio è quello di farlo per meno di un secondo Quindi E poi quando vi sentite confidenti con la tecnica allora la prolungate Chiaramente non dovrete sentire del pizzicore Perché se sentite del pizzicore vuol dire che magari non siete sufficientemente idratati Allora nel caso lì tenete un bicchiere d'acqua in portata di mano Perché le false corde non sono abituate a vibrare per lungo tempo Quindi bisogna dargli il tempo di autolubrificarsi Quindi ci vuole un po' di tempo fisiologico Provo a farlo anch'io Provo, sì Non riesco ancora a mandarlo in mia risonanza perfetta E' ancora non troppo periodico come suono Però il movimento è quello giusto Provo ancora un po' magari con note diverse anche Il fatto di cambiare nota può aiutare perché siamo tutti diversi Quindi abbiamo delle zone di comfort che variano da persona a persona Quindi mentre schiarisco anche mettere un po' di voce che mi innesca Esatto, hai detto bene, innesca Questo è un suono particolare, una tecnica vocale particolare Perché all'inizio c'è sempre bisogno di quel movimento di messa in moto Come un motorino d'avviamento C'è bisogno di quella porzione di aria extra Che inizia a mettere in moto per inerzia le corde false Quindi quando stanno iniziando a muoversi Allora ecco che le corde vere si chiudono E creano un flusso d'aria costante che produce questo suono E questo ci rimanda al secondo esercizio o spunto Per imparare questa tecnica Che se non ha funzionato il primo potete provare questo Ed è quello di imitare un cane di grossa taglia che avvaia Quindi Che è un suono con un po' di aria Che ricorda anche quello del gorilla Non del cipanzia Quindi potete utilizzare l'immagine che preferite E provare a fare questo suono breve Per intanto capire dove sono le false corde E come queste iniziano a muoversi Senza voce lo faccio Sì questa volta senza voce Prova Ok Consiglio anche di usare un suono V Esatto Quando inizi a sentire che le false corde sono lì E che rispondono al tuo comando Allora puoi aggiungere anche la tua voce parlata Perché questa è una cosa molto importante Che la base deve essere la voce parlata Non dovete camuffare la voce Per ingrossare il suono Per renderlo in qualche maniera Perché la tecnica deve uscire pure naturale E poi in un secondo momento Essere affinata Esatto Bene Questo video finisce qui Vi abbiamo dato sufficienti spunti Per iniziare ad esplorare questo mondo Del canto gutturale o throat singing Bene se volete approfondire O contattarci direttamente Potete farlo tramite la nostra pagina facebook Oppure come compare qua sotto Presso il sito www.cantotifonico.eu Ciao ragazzi Ciao